bentornati con opencapsula nel quarto episodio e continuiamo come da titolo ho trovato quello che speravo quello che volevo proprio vegeta no bojack si lui l'ho fatto evitare una ur e gli ha dato gogeta si si può stare a 4 si infatti chi altro possiamo fare vediamo un po dai se può stare a 4 e goku beh l'ho fatto salire un po' di livello in passato ok con un bel po' di video questi due episodi tutti insieme e vai bardak un'altra io devo un'altra però frisa dai dorato vai frisa dorato grisa quanto odio quella posa di grisa no no non mi fa di vedere quella posa per gohan dai vediamo questa cos'è bonus d'accesso di accesso tardi mi sa che la distruggo quella ur e quella normale di recorre gli altri non le sopporto Trunks? Beh tanto, 500 esperienze, ve li posso pure pigliare da Trunks, distruggendola. Gohan adulto. C16, meglio chiamarlo C16 perché preferisco il nome ufficiale dell'anime e non androide. Android è solo l'ufficiale nel gioco. Quello vero è C16, vincita, vincete col sub, bene. Dai dai, Goget ce l'ho, provvediamo un po'. No, non mi guarda, nemmeno UR! 4S, 4SR di fila e un'altra UR. Vediamo questa qui, questa qui, questa qui, chi sarà mai? Dai, chiunque mi capita mi fa pennello. Ehi, vai Kid Buu! Mi stavo quasi preparato per fare salire la UR, la SR di Majin Buu in Kid Buu. Diamine. Questa UR mi ha anticipato. Che mazzo! tira! Vediamo se riesco a farlo diventare una UR! Super Buu! Super Buu! No, non questa! Baby Veg, Super Baby! Gotenks! Tantenevamo un'altra! Continuiamo! Dai! Qualcosa di bella mi servirà! Eh! Deve! Fatemi una UR! Ur, 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 ur! niente! Tantenevamo del futuro... mi sa che la distruggo... questo no, continuiamo con qualche capsula singola niente, sprechiamo un'altra beh in queste capsula singole vi erano uscite almeno qualche ur e poi sono stato fortunato a trovare ultraistinto in una capsula singola, sempre speciale la trovate in alto tra le schede o in sotto la descrizione dai frisa un'altra capsula speciale da 100 vabbè poi siamo qua di strunco dai che bella la R mi sono trovata, due R ma mia, mi ha fatto via un colpo un altro due reggete di fila wow, già ne ho un'altra di queste dai un altro gotheng UR è disponibile sfruttiamolo va dai, incrociamo le dita incrociamo le dita UR vegeta bene, come se mi serviva come se mi serviva come se mi serviva perchè bis la R di vegeta che ha il suo cannone gallic fa dei danni esagerati vabbè ho già fatto qualche taglio perchè ho liberato un bel po' di posti black goku vabbè lui diventa sicuramente black goku rosè si, si, sicuro tengo puro zamasu dai se volete il nuovo video l'episodio su rivoluzione delle mie miniature sotto i commenti si o lasciate un like per dire si così mi farete capire che o è davvero se tengo davvero zamasu la funzione zamasu oh mamma ma ancora vegeta goku gt bene dai 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 Ah vabbè Ragazzo Siamoci 13 Ah no Se fosse stata una UR sarebbe stato meglio Continuiamo con un'altra Eh dobbiamo liberare Ok ho già liberato un bel po' di posti Non è che li ho liberati Li ho sbloccati Gianemba Ma non sai quanti bene sono uccisi di questi Gianemba Forse Abizzesse G-Rab Quasi Ci sia quasi Ci sia quasi Mi sembra una URBG Mi sembra una UR di Jiren Dai Datemi una UR di Jiren UR di Jiren UR di Jiren Mi serve Mi serve Mi serve Marò Super Bu Eh dai che ci fai qua Gojeta Gojeta Vabbè Questo me lo faccio dire a Gojeta Super Saiyan 4 Per livello Adesso è mascherato Sette Padre di Goku UR Dai Datemi una UR Datemi una UR Il cuore Mi sta martellando Sii Non ci credo Vabbè Vabbè Ok 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 Jiren Saren UR Mamma mia Non ci credo Non ci credo è la stessa cosa che mi è successo con un ultraistinto la guerra di Goku ultraistinto nella capsula garantita tra le schede ho in sotto la descrizione però mi servirà qualche angelo maestro di uno di quei due dei della distruzione un altro Jiren dai no io questo lo odio un altro Goku ok ho già liberato un bel po' di Klausucce sbloccando dai sbloccando qualche posto per le miniature dai qui mi mancava quella di Freeza mi mancava hit vedete quella UR di hit un altro Jiren il terzo della SR diamine tutta SR e un colpo dai non voglio guardare non voglio guardare non voglio guardare non voglio guardare non guardo non guardo non guardo che che mi sta versendo dai no io la giacola lo distruggo non mi interessa ma iatola lo distruggo vabbè Gohan vabbè Gohan è un altro Vegeta tira è la stessa ur che ho ci ho fatto evolvere in Gogetta 4 Gogetta Super Saiyan di livello di quarto livello dai UR 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 mi seguo da UR bella bella tosta una bella tosta dai VADOS andiamo VADOS VADOS dai continuiamo gubbio vabbè sto accelerando di botto solo una R è uscita meglio così dai 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 vabbè questa era frost peccate che non c'è una ur di frost puoi trovarla vabbè facciamo con questa la stuccia da questa volta dai 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 no janemba ancora tu mi sta perseguitando sto janemba veget un altro veget però è molto più forte dell'altro vabbè metacooler super boo android 17 eh no c17 chiamano c17 con il suo nome ufficiale non del gioco si viene chiamato da android ma lo chiamano c17 sono c18 ma allora peccato per c16 eh è un peccato per c16 mi stava proprio simpatico c16 ve lo dico dai vediamo se c'è un altro ur ur ragazzo no dai ur ragazzo un altro l'ultima capsula e poi andiamo via vabbè vabbè prosto no quelle chiappe di giro non le vuoi provare dai niente niente più niente più abbiamo finito la ur ok 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 vediamo un po' dai 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 e vai Vegeta Vegeta 4 e con questo è tutto noi ci vediamo alla prossima commentate commentate iscrivetevi al canale se ancora non lo volete fare lasciate un bel like e condividete con un amico che gioca a Xenemers ciao e ci vediamo alla prossima mi raccomando iscrivetevi al canale se ancora non lo avete fatto ciao